L'ispirazione principale con la dottoressa Silvia Pegoraro è stata questa ripresa delle origini del Premio Michetti e io mi sono accorto che appunto ero stato nominato nuovo presidente esattamente a 70 anni dalla fondazione del Premio Michetti e un po' questa è stata la linea che abbiamo seguito e che soprattutto la Silvia Pegoraro ha cercato di interpretare in termini critici guardando a Michetti soprattutto per la sua visionarietà. Quali sono le iniziative che avete messo in campo per questa importante ricorrenza? Beh intanto la mostra stessa che si apre il 16 dicembre e finirà il 28 di gennaio poi in conclusione a questo 28 gennaio faremo anche un concerto di musica classica e nel frattempo il 28 di dicembre faremo una conversazione con la professoressa di Salerno sulla figlia di Iorio, tragedia di D'Annunzio però è lo stesso titolo diciamo di un'opera di Francesco Paolo Michetti e il sodalizio tra Francesco Paolo Michetti e D'Annunzio dal mio punto di vista va rivalutato soprattutto a livello problematico perché vedo che sono due persone un po' diverse tra di loro.